salve sono catelo masurlo della giuria della quattordicesima edizione del premio sorriso diverso venezia 2024 il uno dei film dei lungometraggi candidato al premio e famiglia di francesco costabile il quale aveva pochi anni fa ha avuto un esordio davvero culminante con una femmina nel 2022 e con questo secondo film sfiora già il capolavoro assoluto già nel primo film l'analisi della violenza da parte di francesco costabile era straordinaria ma qui forse addirittura alza ancora di più l'asticella perché anche se la violenza di genere è un po la pietra angolare attorno alla quale tutta la vicenda si snoda ma le sono trattate in questo film in maniera egregia tantissime altre forme di violenza e con altri filoni narrativi quella indotto a si un minore e sui figli ma anche quella delle istituzioni che con delle assurde procedure di tutela dei minori le impone gli stessi anche contro la volontà dei minori operando dei conclamati anche ancorché legali atti di violenza violenza anche come strumento di potere all'interno di associazioni parapolitico paracriminali e naturalmente non non mancano le sottolineature della violenza della delle pesanti discriminazioni del genere e delle pressioni psicologiche come tante altre forme di violenza è un'opera matura autoriale che sfiora come già detto il capolavoro assoluto e che lascia assolutamente il segno con attori straordinari una meravigliosa barbara ronchi che recita con gli occhi e un francesco di leva veramente forse ai massimi diciamo alla sua migliore interpretazione di sé per chi non non l'avesse visto ne raccomandiamo la televisione e grazie grazie